Amici, oggi siamo qui per analizzare un incidente che ha girato molto in fretta, diciamo, nell'ambiente aviazione che è appunto lo schianto di un Canadair durante le operazioni di spegnimento incendi in Sicilia. L'incidente è avvenuto ieri, il 27 ottobre, ho guardato che non mi ricordavo che giorno è oggi. Sì, questo video lo faccio un po' in fretta effettivamente, probabilmente ci sarebbe magari di più da analizzare, da guardare, però il tempo è quello che è e niente. E volevo dirvi un po' quello che secondo me è il mio punto di vista, quello che secondo me potrebbe essere verosimile sulle cause di questo incidente e anche un piccolo pensiero che, diciamo, sull'accaduto. Allora, partiamo dal fatto. Allora, ieri appunto, il 27 ottobre, durante le operazioni di spegnimento di un incendio nei pressi dell'Etna, in Sicilia, un Canadair è precipitato, non so se lo sapete, i Canadair, gli aeroplani, sono di proprietà dello Stato italiano, ma l'utilizzo del Canadair non è dato a un ente pubblico come può essere, per esempio, i vigili del fuoco, ma i Canadair sono utilizzati da una società privata che è Bobcock, che tra le altre cose questa è un ente privato che si occupa anche, per esempio, degli elisoccorsi, di alcuni elisoccorsi. Bene, che cosa succede? Succede che c'è questo incidente, in poche parole, e questa volta l'incidente è stato ripreso da più inquadrature, almeno due, quelle che io ho trovato in rete fino ad oggi, e che vi faccio vedere. Partiamo subito dal primo video che ho trovato in rete, qui abbiamo anche un po' di audio. Viene girato dalla forestale, come vedete, c'è la pattuglia sotto, la pattuglia al furgone. Ecco il Canadair in avvicinamento. Allora, a proposito del Canadair in avvicinamento, ora non mi ricordo più perché l'intervista è già scaduta, è stata fatta un po' di tempo fa, però ho avuto la possibilità di intervistare Giulia Grigoletti, che è una pilota, un pilota femmina, una pilota, una pilotessa, un pilota femmina, adesso vedete come volete chiamarla, di Canadair appunto, e abbiamo parlato proprio anche della cosa, di come funzionano gli avvicinamenti e tutto. Vado a memoria perché non mi ricordo, però il fatto che volino molto basso è normale, perché hanno una quota minima, diciamo, di sgancio dell'acqua, oltre il quale, non dico che sia inutile, ma man mano che aumenti questa quota, diventa sempre più inutile la tua operazione di sgancio, perché il Canadair, voglio ricordare, al suo interno mantiene, diciamo, contiene 6.000 litri d'acqua, se queste 6 tonnellate di acqua vengono scaricate il più vicino possibile all'incendio, sull'incendio fioccano 6 tonnellate di acqua. Se tu queste 6 tonnellate d'acqua le sganci da 300 metri, tu non fai altro che una nebbiolina diffusa e basta, l'acqua non arriva a spegnere, a raffreddare, a soffocare, a spegnere l'incendio, ok? Fai una nebbiolina che non serva a niente, quindi è per questo motivo che i Canadair li vedete sempre molto bassi. Continuiamo nel video, il Canadair, come vedete, si avvicina, sorvola la cresta della montagna, già qui vediamo che ha un avvicinamento un po' aggressivo, vedete che ha un angolo di bank, si dice, cioè quando l'aeroplano è inclinato, scusatemi se vedete chiaramente un po' di notifiche, dicevo, ha un angolo di bank molto pronunciato, ok, quindi vediamo già l'ombra, per esempio, e qui l'aereo sgancia l'acqua. Secondo me, poi vediamo, già questo avvicinamento forse non è proprio ottimale, anche perché come vedete, a mio avviso, mi sembrerebbe che il target sia completamente mancato in questo caso. Una volta sganciata l'acqua, vediamo che l'aeroplano inizia a rollare per raddrezzarsi, vedete? Qui sta raddrezzando, guardate bene, qui sta iniziando a raddrezzare, poi improvvisamente l'aeroplano vira verso destra e precipita. Qualcuno, questa virata, l'ha intesa come uno stallo, invece l'aeroplano non ha assolutamente stallato, intanto perché se non ha stallato qui, ok, è vero che sta andando verso il basso, quindi un angolo di incidenza relativamente basso, però una volta che sgancia l'acqua, voi dovete pensare che il Canadair pesa 6 tonnellate in meno, quindi le prestazioni del Canadair in questo momento sono decisamente migliori una volta che sganci l'acqua. Se ne parlava proprio nell'intervista, cioè come sganci l'acqua devi essere pronto a contrastarlo perché lui cabrerebbe come un pazzo, ok, quindi sgancia tra l'altro con un angolo di bench importante. Qui l'aeroplano è controllabile perché vedete che inizia a rollare, inizia a rollare per raddrezzarsi, quindi l'aeroplano è controllabilissimo. Quello che succede in realtà è che purtroppo la semi alla destra, tocca in questo momento, guardate, l'ho fermato in questo momento, vedete che c'è anche una scia bianca, non so se può essere carburante, comunque è segno che l'ala qua ha urtato, si è rotta e sta uscendo del liquido, o comunque può essere anche solo la polvere del trascinamento. Vedete, a questo momento si trova l'aeroplano con una semi alla che non fa più portanza, l'unica portanza viene generata dalla semi alla sinistra e che quindi questo fa rollare l'aeroplano a destra. In questo caso l'unica cosa che poteva fare il pilota e che bisogna essere molto veloci è provare a comandare con il timone, forzando, diciamo, col timone di spostare il muso verso sinistra, dando più velocità alla semi alla destra, quello che ti rimane della semi alla destra, per generargli più portanza. A mio avviso era spacciato l'aeroplano, forse anche con questa operazione avrebbe solo rallentato il rollio, ma non lo avrebbe fermato, probabilmente. E poi parliamo di, avete visto, due secondi. Comunque in questo momento l'aereo, vedete, inizia il suo rollio verso destra. C'è un momento in cui l'aeroplano è in volo rovescio, qua lo vediamo bene, gli manca praticamente completamente tutta l'ala sinistra. no, scusatemi, l'ala destra, vedete, manca completamente tutta l'ala destra, purtroppo. Qui c'è il mio Dio. Vediamo l'altra angolazione, che, scusatemi, questo non c'entra niente, guardiamo l'altra angolazione, che è questa invece. Dai, va bene da qua, continuiamo un pochino. Ecco, inizia la virata. Angolo di bank molto pronunciato, avvicinamento, sgancio dell'acqua. Qui lo si vede proprio molto bene. Intanto il completo mancamento dell'obiettivo, però va bene. Qui vediamo che l'aeroplano tocca proprio terra, vedete, tocca qua. In questo momento era dove aveva toccato e precipita. Ok. Riflessioni su questo argomento. Le riflessioni sono queste. Allora, io, da quello che posso aver letto nelle notizie che si trovano in rete, l'incendio andava avanti, andava avanti già da un po', già da una giornata, dal giorno precedente. Questo Canadair aveva già fatto diversi sganci, da quello che si può dire. Quindi, è un argomento interessante, nel senso che, se fosse stato il primo sgancio, magari il fatto che si avvicini da quel lato e che debba fare per cercare di prendere quella porzione di incendio, questo angolo di bank così elevato, questa virata a bassa quota molto pronunciata, poteva essere, diciamo, attribuita al fatto che non aveva ancora mai sganciato acqua in quell'area, su quell'incendio, e non conosceva bene la morfologia del terreno. In realtà ne aveva già sganciato, quindi chissà come mai. questo tipo di avvicinamento. Magari l'aveva fatto così anche le volte precedenti, magari no, questo non lo possiamo sapere. Magari il fatto di averlo già sganciato più e più volte aveva portato il pilota già ad una certa stanchezza, e quindi ad un livello di lucidità o di attenzione inferiore rispetto all'inizio. Magari, spero, credo, penso di no, però siamo uomini, magari il fatto che sia diventata una routine, quell'incendio, quella missione, potrebbe avere indotto il pilota ad un approccio un pochino più superficiale, perché l'ho già fatto una volta, l'ho già fatto due volte, l'ho già fatto tre volte, ma sì, dai, via, una cavolata, ok? E non lo sappiamo questo, quei motivi dell'incidente. Secondo me, quello che possiamo dire, però, è che quasi al 90%, vedendo queste immagini, si tratta di un errore del pilota e non di un guasto tecnico dell'aeroplano. Il primo è un discorso di logica. Sono un pilota, sono su un Canadair, sto andando a fare una cosa che so benissimo essere pericolosa che può portarmi alla morte, perché questi piloti fanno cose che sanno di essere pericolose. Se hai l'aeroplano che ti ha già dato dei segnali di qualche cosa che non va dal punto di vista tecnico, non ti butti in quella missione, non ti butti in mezzo a una gola per cercare di spegnere l'incendio, se sai che c'è qualcosa che non va. Seconda cosa, comunque notiamo che l'aeroplano, fino a che l'ala non tocca il terreno, manovra, risponde ai comandi, perlomeno lo vediamo sganciare acqua, lo vediamo iniziare a rollare per tornare in posizione, poi tocca e una volta che tocca l'aereo è strutturalmente rovinato, quindi lì dopo non c'è più diciamo risposta ai comandi. Quindi secondo queste mie due considerazioni che posso vedere secondo me è l'errore umano. Dire errore umano io odio chi dice no ma tu non puoi perché ci sono dei morti, ma non vuol dire assolutamente niente. L'errore umano non significa che questi piloti non fossero capaci o non significa assolutamente sminuire le capacità il loro lavoro o il loro sacrificio. Assolutamente no, assolutamente no. È come un grande calciatore che sbaglia un rigore. Ora perché ha sbagliato un rigore non significa che non sappia giocare a pallone o non sia un buon calciatore o un buon pilota di corsa di Formula 1 di moto di moto che magari fa una scivolata o va dritto ad una curva non significa che non sia un buon pilota o un ottimo pilota. Ha fatto un errore. Può succedere? Dire che è un errore umano non significa sminuire quello che fanno, non significa infangare la memoria dell'equipaggio che era a bordo di questo di questo mezzo. Assolutamente no. Assolutamente no. Ci tengo a ripeterlo assolutamente no. Purtroppo sbagliamo. Ciò non significa essere un incompetente. Assolutamente. Ci tengo a dirlo a tutti i costi. Una piccola curiosità che purtroppo a noi gente comune non sapremo mai in una massa alla fine è che comunque i Canadair in dotazione sono comunque equipaggiati di tutto quello che sono le scatole nere per esempio dell'aviazione civile cioè ovvero registratore di cabina quindi registratori di voce di quello che sono i piloti fino all'ultimo momento sia i dati di volo della macchina quindi altimetro velocità gli strumenti insomma il data il data log in poche parole dell'aeroplano non sapremo mai nulla di questo incidente se ne parla un po' adesso perché appena accaduta la notizia poi non si saprà più niente spero di avervi detto un po' la mia e l'ultima riflessione che voglio fare è in merito a questi piromani e sarebbe bello che venissero trovati non solo fossero incriminate per disastro ambientale per procurati allarmi tutto quello che volete ma io ritengo che anche queste persone dell'equipaggio che oggi che oggi che ieri purtroppo sono morte durante il loro lavoro siano state uccise da questi piromani bene signori con questo video è tutto io vi invito nei commenti a a dire un po' alla vostra di cosa ne pensate un po' di tutto quello che avevo detto e niente vi invito chiaramente ad un prossimo video massima vicinanza a tutti i piloti che affrontano questo tipo di missione e un messaggio mio di vicinanza al gruppo intero perché posso immaginare che in questi momenti il morale vada un po' sotto ci si sente sempre un po' invincibili non so come dire però si tende sempre a non pensare che possa accadere questo perché se tu voli con il terrore di precipitare in questo modo non saliresti più sull'aeroplano quindi l'incoscienza di queste cose qui è un meccanismo di protezione che ti permette di fare bene il tuo lavoro altrimenti non saliresti mai a bordo di questi mezzi sono consapevoli benissimo del rischio ma si tende sempre a pensare che ma sto attento lo faccio già da tanti anni sono addestrato eccetera 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 so quello che faccio quando capitano e sono dei veri e propri fulmine a ciel sereno che possono destabilizzare gli animi di questi di questi piloti voglio mandare un messaggio in diretto a tutti loro ringraziando per quello che fanno dicendo grazie e continuate 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 non fatevi prendere dallo sconforto onorate i vostri colleghi continuando a fare bene il vostro lavoro come i vostri colleghi hanno fatto fino all'ultimo ragazzi grazie mille al prossimo video grazie a tutti